Ragazzuoli, ciao a tutti. È abbastanza inutile girarci attorno fondamentalmente dato che il titolo è chiaro, la miniatura anche e quindi viene da sé chi sia di fatto il protagonista del video. Anche perché io stesso qualche giorno fa quando era uscita la notizia del rinnovo del contratto, a primo impatto ero anche dannatamente felice perché ho detto Oh, effettivamente Agnelli nell'ultima intervista fatta quando ha tirato fuori il rinnovo di Dybala ha parlato di una Juventus che ha deciso di puntare su una linea verde composta dai vari De Ligt, Locatelli, Chiesa, Vlaovic, compagnia cantante e ho detto Oh, questa notizia riguardo il rinnovo di De Ligt è proprio atta a blindare il giocatore e renderlo a tutti gli effetti un pilastro, un perno della Juventus nel medio-lungo periodo. Poi però, piano piano, che sono continuate ad uscire le notizie legate al rinnovo di De Ligt, per carità, si è giunti, pare, quantomeno ad una conclusione che porterà effettivamente a questo rinnovo di contratto da parte di Matthijs De Ligt. Solo che c'è un piccolissimo cavillo giuridico, ovvero il discorso legato alla clausola recessoria. Sin da subito si era parlato di un abbassamento della clausola, però ovviamente sapete, se da 125 milioni la passi a 110, la passi a 100, ok, è sicuramente un abbassamento della clausola, ma rimarrebbe pur sempre una cifra che, insomma, devi vedere effettivamente quanti sarebbero disposti a sborsare per un difensore centrale, nonostante che, indubbiamente, in Europa, in particolar modo in Premier League o magari qualche club come il Bayern, come il PSG, Barcellona e Real, avrebbero comunque la possibilità di sborsare, se proprio portati, all'occorrenza del farlo. Però effettivamente, nel momento in cui, pare, la clausola recessoria verrà abbassata fino a portarla sugli 80 milioni, se non magari addirittura qualcosini meno, ecco, più che una clausola recessoria diventa, a tutti gli effetti, un prezzo di vendita. Perché, onestamente, non vedo altri termini. Una clausola recessoria per un giocatore come Matthijs De Ligt significa, ok, ho fissato quel prezzo per la vendita che, presumibilmente, nel giro di molto poco, accadrà pure. E nasce proprio qui la mia paura. Sono dannatamente sincero con voi, perché effettivamente si sa già di un interessamento di diverse squadre per Matthijs De Ligt. E se prima, magari, c'era appunto questa clausola sui 120-125 milioni, dove se fai un'offerta comunque elevata, ma che non è la clausola, la Juventus ha tutta la possibilità di dire di no, nel momento in cui effettivamente la clausola cita 80 milioni e si presenta un club con 80 milioni, tanti saluti. Infatti, da un certo punto di vista, questo rinnovo di contratto si potrebbe proprio vedere come un compromesso tra De Ligt e la Juventus. Da una parte c'è una Juventus che, di fatto, non vuole perdere il giocatore, considerando che è scadenza nel 2024, e dall'altra parte c'è un De Ligt che, in un qualche modo, va incontro alla volontà della Juventus di non perdere il giocatore a zero, ma che allo stesso tempo dice, ok, rinnovo, magari manteniamo anche la stessa cifra o comunque non la cambiamo più di tanto, in compenso però mi abbassi la clausola di 40-45 milioni. E nel momento in cui appunto la Juventus pare accetterà questa cosa, beh, ecco bello fatto il prezzo di vendita. E a livello personale, praticamente, inizierebbe, in caso di ufficialità di questo rinnovo, con questo accordo, la mia agonia precessione di De Ligt. Che, diciamoci la verità, ragazzuoli, dal suo punto di vista può essere anche legittima, perché lui è arrivato nell'estate del 2019 dopo diverse stagioni all'Ajax, dove aveva dimostrato di essere un difensore giovane, giovanissimo, allo stesso tempo fortissimo e comunque, nonostante tutto, con tantissimi margini di crescita, vista per forza quella che era l'età del giocatore. Insomma, era arrivato a 20 anni, quindi è normale, no, che per un difensore centrale ci sono altri possibili 15 stagioni ad altissimo livello. E le parole di Mino Raiola riguardo il suo passaggio alla Juventus sono state, a suo modo, simboliche. Se sei un difensore centrale e vuoi diventare il top nel tuo ruolo, devi passare alla Juventus. E nel momento in cui lui è passato alla Juventus, va bene. La prima stagione con Sarri, dove comunque la difesa ballava, non ballava, ma comunque Tane Modis è riuscita a portare a casa lo scudetto e onestamente butta via. Poi, i due anni successivi, tra il primo di Pirlo e il primo di Allegri, eh ragazzuoni, insomma, si è vista una difesa abbastanza ballerina, si è vista comunque, a prescindere dal discorso difesa non difesa, una Juventus parecchio rivoluzionata in negativo, una Juventus che ha perso diverse certezze e ha perso soprattutto l'entusiasmo e la progettualità per il futuro. E nel momento in cui tu comunque rimani pur sempre un giocatore del 99, quindi un giocatore di, cos'è, 22-23 anni, che anche in questa stagione ha dimostrato di essere fondamentalmente l'unico salvabile per un motivo o per un altro all'interno dei difensori centrali della Juventus e nonostante tutto gli obiettivi non li riesce a portare a casa, ci può stare, magari dopo tre, quattro stagioni dire, oh, sapete una cosa, io ero venuto alla Juventus con determinate aspettative, magari per una serie di motivi, tra quelli imputabili a lui e quelli non, le cose non sono andate come mi aspettavo, facciamo una roba, voi i vostri 80 milioni li prendete e io vado altrove dove magari ho la possibilità di alzare il mio livello. Da un certo punto di vista questa cosa è comprensibile e il punto di vista ovviamente è il suo, allo stesso tempo dal mio, un tifoso innamorato di Matthijs De Ligt non lo nego, sarebbe davvero una botta non da poco, anche perché, cazzo, oltre che io sono proprio innamorato calcisticamente di lui, proprio me lo vedevo come il difensore della Juventus nel medio-lungo periodo, il giocatore o uno dei giocatori sui quali fondare la Juventus del futuro, mentre invece proprio al netto di questo rinnovo che sembra proprio una contrattazione, precessione, inizia la mia paura. Sono dannatamente sincero, ragazzuoli, nei vostri confronti ed è davvero un peccato perché comunque la situazione difensori centrali della Juventus continua e soprattutto poi sarà eventualmente a maggior ragione un enorme punto di domanda. Già ad oggi non sappiamo chi sarà il compagno di reparto di De Ligt la prossima stagione, al netto che De Ligt ci sarà la prossima stagione. In più, se poi, tempo un anno, dovrei pure vendere lui e di conseguenza ricambiare lui, rimpiazzare lui in un qualche modo, rischia di essere davvero un discretissimo troiaio. Ma dico la verità, per assurdo già sarebbe ottimo non vendere pure lui in questa stagione, considerando le tantissime mosse tra entrata e uscita che la Juventus dovrà fare nei prossimi due mesi, nel prossimo mese e mezzo, considerando che il campionato inizierà a ferragosto. E quindi, ragazzuoli, avevo solamente la necessità di condividere con voi questa mia riflessione, non particolarmente felice, ma è banalmente quello che mi sentivo di dire, che mi sentivo di esprimere, perché appena ho letto la clausola recissoria potrebbe essere sugli 80 milioni, eccala, ciapali l'inculèda che se non è tra pochi mesi e l'anno prossimo, ma tane modi, state pur certi che arriverà. E io, ovviamente, mi sembra superfluo dire che mi auguro con tutto il cuore di sbagliare e che alla fine della fiera, non lo so, si possa trovare una quadra in grado di far rimanere De Ligt per la prossima decade, quanto meno, però onestamente al netto di questo la vedo davvero, davvero difficile. Voi fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento, io vi mando un grosso abbraccio, e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve! Ciao! Ciao! Ciao!